Ciao famiglia bianconera. Benvenuto nel canale e lascia il tuo mi piace e be' iscriviti. Per ricevere notizie dalla vecchia signora. Diversi giovani della Juventus next gennaio sono riusciti a emergere negli ultimi anni e ad entrare nella prima squadra. Nomi come Dean Wilson e Kenan Yildiz sono gli esempi più recenti. Pertanto, il club è sempre attento alle nuove promesse. Un nome che stava attirando l'attenzione era Riccardo Stivanello, il giovane difensore proveniente dal vivaio del Bologna. Sta guadagnando sempre più visibilità e di recente è stato convocato per la squadra italiana, rappresentando l'Italia nelle categorie Under-18 e Under-19. Ieri, la Juventus ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Bologna per il giovane italiano. Il difensore di 19 anni si unirà alla squadra next generale L'accordo è stato concluso in forma di prestito, ma non neri avranno l'opzione di acquistarlo alla fine della stagione. Per ora, è tutto. Concludo il video qui. Non dimenticare di commentare e condividere questo video con i tuoi amici. A presto!